questa serie è intitolata il dio ateo il dio ateo un ateo è qualcuno che non crede in dio quindi il dio ateo è un dio che non crede in un certo tipo di dio spero che per mezzo di questi sette incontri possiamo scoprire qual è il dio in cui dio non crede e quale invece il dio in cui crede perché vogliamo essere sicuri che il dio in cui crediamo sia lo stesso dio in cui crede dio proprio recentemente nella nostra chiesa il nostro pastore ha tenuto una predicazione sullo stato dei morti un messaggio sullo stato dei morti ha chiamato quattro persone davanti che dovevano rappresentare rispettivamente un cattolico un ateo un induista e un comune evangelico un battista ognuno sosteneva la propria idea sullo stato dei morti quindi il cattolico affermava che esistono inferno purgatorio e paradiso l'ateo diceva che quando uno muore torna polvere nient'altro che polvere l'induista credeva nell'incarnazione mentre il battista contemplava solo due possibilità o il paradiso l'inferno vale a dire il fuoco eterno che dura per sempre ora dal punto di vista di uno che studia la bibbia in base a quello che la bibbia ci dice sulla morte quando uno smette di respirare se guardiamo quelle quattro opzioni quale si avvicina di più alla visione biblica della morte quella dell'ateo esatto vi rendete conto che siamo molto più vicini alla concezione atea ebbene io mi sto mettendo in gioco un giorno una signora mi ha chiesto ma lei cosa pensa è un cristiano perché vedete inserisco sempre qua e là qualche commento che riflettono la visione di un credente per esempio non dico mai o che fortuna ma che benedizione il mio intento è quello di suscitare nella gente il desiderio di fare quanto meno delle domande su dio questa signora quindi mi chiese lei è cristiano ho risposto sì e lei no io sono atea o anch'io mi appena detto che è un cristiano sì è vero allora come fa a essere un ateo beh sono un ateo cristiano cosa intende dire ok mi dica lei perché è atea e guardate cosa mi ha risposto non posso credere in un dio che ti distrugge se non ti inchini e non fai tutto quello che ti dice altrimenti ti fa bruciare per sempre all'inferno oh bene neanch'io ci credo ok e continua beh non credo in un dio a cui interessa di più nel super bowl americano perché non so se ci avete fatto caso ma nel super bowl entrambe le squadre pregano per ricevere la benedizione di dio quale squadra vincerà ma ovviamente quella per cui ti fa dio quindi non posso credere in un dio a cui interessa di più nel super bowl piuttosto che migliaia di bambini che muoiono in africa oh fantastico nemmeno io credo in un dio così insomma lei continuava a dipingere un determinato scenario e dio rispondere oh nemmeno io credo in un dio così alla fine lei esclamò ah ma allora è un ateo no glielo ho detto sono un cristiano allora in quale dio crede vedete che uno sia ateo o materialista e venga tutto ricondotto alla scienza o che sia cristiano e ci sono diverse ramificazioni del cristianesimo la teologia o il sistema di valori in cui si crede devono essere verificati quando nell'equazione subentra la sofferenza umana è chiaro questo se l'equazione include la sofferenza umana il tuo credo deve superare il test in base al quale nel momento in cui la sofferenza umana viene estrapolata dall'equazione questa rimane intatta perché solo così corrisponderebbe alla verità se è vera allora anche tu sarai nel vero quando la calli nella sofferenza umana e i meccanismi della ragione rimangono gli stessi anche dopo ora però attenzione perché se sei un ateo e cerchi di spiegare la sofferenza umana allora non puoi biasimare dio perché dio non esiste devi essere dunque in grado di ricorrere al tuo ateismo per spiegare la sofferenza umana infatti se la vita è solo scorrere di una sequenza di eventi e noi nasciamo cresciamo ci riproduciamo e moriamo e tutto finisce lì perché dio non esiste allora perché piangiamo quando un bambino muore in ospedale qual è dunque il problema perché ti preoccupi di quelli che vengono uccisi in siria non è altro che lo schema della nascita crescita riproduzione e morte e non puoi nemmeno biasimare dio perché dio non esiste perciò la tua teoria o le tue convinzioni devono superare il test della sofferenza umana e superato quello rimanere ancora integro ebbene il tuo dio è quello che supera il test dell'equazione della sofferenza umana e che anche dopo essere stato estrapolato rimane lo stesso ieri oggi e per sempre è ancora buono è ancora amore è ancora redenzione è ancora tutte le cose che il tuo dio nella tua mente afferma di essere fate bene attenzione che lo sto chiamando il tuo dio perché oggi come oggi mi rendo conto che il tuo dio potrebbe non essere il dio del cielo ora il libro di prima giovanni capitolo 4 versetto 8 ci dice che dio è amore ok abbiamo un cosiddetto capitolo dell'amore nella bibbia che è prima corinzi 13 giusto l'amore è paziente non si vanta non si nasprisce non sospetta il male crede ogni cosa giusto spera ogni cosa e sopporta ogni cosa l'amore non viene mai meno giusto ora mettiamoci la parola dio perché dio è amore come interpretiamo la bibbia lasciamo che la bibbia interpreti se stessa guardiamo un simbolo e lo colleghiamo alla realtà abbiamo appena visto che dio è amore quindi inseriamo ora la parola dio in questi versetti perciò dio è paziente ed è benigno non prova invidia giusto non si mette in mostra e non si gonfia non si comporta in modo indecoroso non cerca le proprie cose lui non si nasprisce non sospetta il male non si rallegra dell'ingiustizia ma gioisce con la verità dio tollera ogni cosa crede ogni cosa spera ogni cosa sopporta ogni cosa perché dio non viene mai meno ed è vero nell'esperienza cristiana e nella sofferenza dell'umanità perché afferma di essere un dio che non cambia dio che è amore e che è l'autore di prima corinzi 13 versetti dal 4 all'8 non cambia mai e attraverso la sofferenza umana perché se lui non cambia mai anche attraverso la sofferenza umana ehi abbiamo in mano qualcosa di grande perché non abbiamo bisogno di cambiare dio per giustificare o cercare di spiegare la sofferenza perché se manteniamo dio quale è e lasciamo che la sofferenza venga spiegata mediante dio allora forse abbiamo trovato qualcosa di grande quanti di voi hanno sentito la testimonianza di mia moglie veronica abbiamo registrato la sua testimonianza qui nel 2012 mia moglie veronica e sua sorella teresa ok negli ultimi 12 mesi il signore ci ha fatto vivere un'esperienza straordinaria tanto straordinaria che né io né mia moglie vorremmo mai cambiarla a un certo punto abbiamo detto wow che benedizione in seconda corinzi 7 versetto 4 paolo dice sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta l'afflizione qualcuno potrebbe dire a questo tizio è matto attenzione non ha detto che gioisce ma che sovrabbonda di gioia in cosa in tutta l'afflizione la voglio anch'io la voglio anch'io perché in questo mondo soffriamo l'afflizione giusto la voglio anch'io voglio vivere questa esperienza ora poco più di un anno fa mia moglie non si è sentita bene abbiamo deciso di andare dal dottore che le ha prescritto degli esami fra cui una risonanza magnetica siamo poi tornati dal medico eravamo seduti davanti a lui e il medico ha girato lo schermo verso di noi il suo fegato era pieno di macchie ci siamo guardati l'un l'altra mia moglie mi ha guardato e la prima cosa che ha detto è stata lode a dio ehi 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 sovrabbondo di gioia in tutta l'afflizione se il mio dio è vero è vero nell'afflizione è vero nella sofferenza umana altrimenti sarebbe solo un artificio mia moglie allora guarda il medico di fronte e mi dice onestamente sono preoccupata per questo dottore dovrebbe prendere un appuntamento con te oscar perché ha bisogno di buttare già un po di peso insomma questa è stata la reazione di mia moglie dopo aver appreso la notizia all'improvviso la donna che solo due anni prima mi aveva battuto di 20 minuti in una maratona adesso era al centro della scena per un tumore allo stadio terminale è uscita dallo studio del medico con me ci siamo guardati in faccia e mi ha detto lode a dio lode a dio lode a dio ci siamo diretti al negozio di alimenti naturali e mentre mia moglie stava entrando la commessa del negozio che stava parlando con un cliente la nota mia moglie che aveva il famoso sorriso alla veronica entra e la signora la proprietaria del negozio dice dice al cliente ecco qui una bella e giovane ragazza in salute e questo dopo solo pochi minuti che a mia moglie era stata prospettata l'unica scelta delle cure palliative lode a dio perché lui aveva comunque preservato il suo aspetto ci faceva piacere che non ci fossero alternative che potessero offrirci molto bene siamo tornati a casa e ho detto a mia moglie ok cancellerò il viaggio infatti sei mesi prima ero stato invitato ad andare a new york per tenere dei seminari nel bronx e per sei mesi avevamo chiesto l'intercessione per il sangue dell'agnello sul bronx sulla chiesa e su tutto il resto quando abbiamo ricevuto la notizia della malattia terminale di mia moglie era era un lunedì e io sarei dovuto partire il giovedì il martedì mattina mi trovavo nel soggiorno e stavo pregando cercando di capire come avrei fatto a dire a quelle persone che non sarei più partito mia moglie si alza e dice non voglio che tu faccia quello che fai sempre e cioè che ti prepari la valigia all'ultimo minuto le ho risposto amore non ci vado non sono un marito così crudele non ci vado e lei sì che lo sei perché perché dio non è un bugiardo cosa intendi cosa abbiamo fatto finora cosa ti sei messo a telefonare ai pastori per pregare per tutta l'area del bronx hai telefonato tanta gente abbiamo pregato in chiesa per il bronx cosa hai fatto in questi ultimi sei mesi hai continuato a dirmi a ricordarmi veronica per favore prega per il bronx e lo abbiamo fatto abbiamo pregato per fare cosa affinché che dio si manifesti nel bronx e adesso mi sta dicendo che non ci vuoi andare mia moglie mi ha guardato e ha detto devi essere tu la risposta mi ha detto se non ci vai io vado a stare per una settimana a casa di mia madre a sydney perché sapevo già che non ti avrei visto per una settimana allora ho detto ok signore ci vado ci vado è arrivato il giovedì dovevo presentare una serie nella south island dal titolo la guerra dell'eredità quindi arrivò il giovedì partì per andare all'aeroporto con largo anticipo mi piace arrivare per tempo e aspettare in aeroporto piuttosto che nel traffico sono partito molto prima dunque per andare in aeroporto ma ho trovato talmente tanto traffico che ho quasi perso l'aereo arrivato lì mi hanno detto che non potevo portare il laptop in mano ho chiesto ma perché non può portare il laptop in mano lo deve mettere nella valigia sapendo come trattano i bagagli ho detto che non volevo mettere il laptop in valigia mi hanno detto che avrei fatto scalo in cina e che siccome il mio cognome era stato registrato come secondo nome io ho due cognomi sande ed hernandez quindi hernandez è stato inserito come cognome e sande che è sempre il mio cognome come secondo nome quindi in cina mi avrebbero fermato e mi avrebbero rimandato indietro sono scoppiato a ridere ho chiesto devo firmare qualche documento sì sì firmi questo foglio perché la compagnia aerea declina ogni responsabilità va bene firmo non c'è nessun problema d'accordo è quasi certo che siccome il suo cognome non combacia con quello che c'è sul biglietto la rispediranno indietro risposi no no non lo faranno perché no perché sto andando nel bronx perché perché so che dio non mi avrebbe mai fatto lasciare mia moglie nelle condizioni in cui è per poi farmi rispedire indietro dalla cina ho messo quindi il laptop in valigia ho messo la mano sulla valigia e ho detto padre invoco il sangue dell'agnello su questa valigia l'hostess mi chiese ma lei prega per la sua valigia certo mi disse lo ritiri fuori lo ritiri fuori non lo metta lì quindi ho ripreso il laptop in mano e quando mi sono incamminato ho notato che tutti avevano il proprio laptop in mano quel tipo aveva fermato solo me per farmi rimettere il portatile in valigia ebbene ho viaggiato tantissimo negli anni e non ho mai perso il bagaglio mai fin quando sono arrivato all'aeroporto john fitzgerald kennedy di new york la mia valigia è stata l'unica a non uscire dal ritiro bagagli l'unica sono arrivato al ero così sorridente o signore è arrabbiato è arrabbiato ehi sapevo che dovevo essere lì non mi importava del fatto che avrei dovuto predicare coi vestiti del viaggio che problema c'era ad ogni modo il mio bagaglio ricomparve dopo circa un giorno e mezzo ho esordito con questo messaggio non so perché ma c'è qualcuno qui che questa settimana darà il proprio cuore a dio e ne sono sicuro al cento per cento perché il signore non può avermi portato via da mia moglie proprio dopo aver avuto la notizia della sua malattia per nulla dopodiché ho cominciato il seminario alla fine un uomo venne da me e mi disse sono io chiesi cosa intende dire il signore l'ha mandata qui per me risposi lode a dio e pregai per lui c'erano altre persone che stavano aspettando e qualcuno si avvicinò e mi chiese posso parlarle certo possiamo parlarle in privato certo ci siamo appartati mi ha detto sono io cosa intende dire il signore l'ha portata qui per me il messaggio che ci ha appena dato era per me l'ho del signore e pregai anche per questa persona insomma ci sono state circa 20 persone che sono venute da me quella sera a dirmi sono io sono io sono io secondo sermone ho parlato dell'eredità di geremia l'eredità di geremia abbiamo chiuso le porte quella sera la chiesa era vuota c'erano solo la signora che aveva organizzato le conferenze il pastore ed io stavamo andando via quando in mezzo a quella via del bronx vedemmo una donna afroamericana venire verso la chiesa eravamo solo noi tre e ci chiese signori potreste pregare per me era in dolce attesa guardai ed erano le 10 30 di sera era buio e mi frullavano in testa tutte queste paranoie sul bronx e sulla gente che viene ammazzata e le dissi sì possiamo pregare per lei qual è il problema beh la mia gravidanza non sta andando bene probabilmente perderò il bambino è una gravidanza a rischio sono molto stressata su cosa avevo predicato quella sera sull'eredità di geremia le dissi ok pregheremo per lei e pregheremo per il suo bambino come chiamerà il bambino geremia lo guardate le ho detto il suo bambino nascerà e starà bene e lei sarà una buona madre e porterà tante persone al signore come fa a saperlo perché ho appena fatto un sermone su geremia e sull'eredità di geremia e sono le 10 30 della sera è buio pesto e lei si è fatta tutta la strada fino a questa chiesetta per una preghiera è il signore che ti ha portata qui noi avevamo solo bisogno di pregare ma lui ha già risposto alla preghiera per quello che sappiamo geremia è nato ed è un bambino bello e sano quando le conferenze terminarono ci fu un certo numero di battesimi c'erano persone che erano entrate in chiesa quella settimana e che hanno deciso di intraprendere gli studi biblici in vista del battesimo anche l'ultimo giorno quando abbiamo avuto un piccolo problema con un senza tetto e abbiamo dovuto far intervenire un poliziotto di pattuglia che era amico di uno dei membri della comunità e bene quel poliziotto che era intervenuto solo per dare una mano a riportare l'ordine alla fine si è seduto durante la conferenza e quel giorno ha deciso di dare il proprio cuore a gesù sono ripartito per tornare a casa e quando stavo per fare scalo in cina ho sentito il bisogno di chiamare mia moglie chiama veronica chiama veronica chiama veronica sono entrato in aeroporto e ho cercato un wifi per chiamarla via skype perché avevo dimenticato il mio cellulare stavo quindi cercando di chiamarla via skype ma la signora che ho trovato al desk con con un inglese molto incerto molto più incerto del mio mi ha detto che non c'era connessione internet c'era un guasto le ho detto no forse non ha capito bisogno di internet posso usare la sua no 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 insomma in definitiva non c'era connessione allora ho aperto il mio laptop è una storia vera è abbiamo a che fare con questioni celesti ho aperto il mio laptop sicuro di non avere copertura internet sapete quell'icona lì rossa ero lì e continuavo a sentire la voce che mi diceva chiama veronica chiama veronica chiama veronica mi sono connesso skype si è aperta la schermata chiama veronica chiama veronica chiama veronica ho cliccato sul pulsante ed è partita la chiamata mia moglie risponde e comincia a piangere mi ha detto oh il fegato mi faceva male e ho detto al signore non so dove sia oscar forse è arrivato in cina puoi farmi chiamare puoi farmi chiamare ho cominciato a parlarle e dopo qualche minuto le ho chiesto ti fa ancora male no oscar non sento più dolore ho parlato con lei senza connessione internet per un'ora e mezza per rendermi poi conto di essere circondato da cinesi con in mano il proprio cellulare che mi stavano guardando e stavano cercando di capire come collegarsi perché pensavano che io facessi da hotspot una ragazza del venezuela che stava aspettando il suo volo mi chiese scusi non ho internet posso usare la sua connessione nemmeno io ho internet ma sta parlando su skype lo so dio è grande stavo guardando mia moglie mia moglie era lì la guardavo e abbiamo parlato no no non è possibile non c'è internet come avete fatto a connettervi non lo so non ho internet ah ok posso chiamare mia madre quando avete finito certo sa non hai internet non si preoccupi ho un credito di 16 dollari su skype ok ho finito la telefonata con mia moglie e intanto intorno si era formata una folla immensa di cinesi il resto del terminal era vuoto erano tutti intorno a me la ragazza mi fa guardi le pago il disturbo no non si preoccupi ho un credito di 16 dollari chiama al venezuela il telefono squilla e inizia a parlare con la madre al telefono di casa questo vuol dire che skype mi avrebbe adebitato la telefonata è lì col mio portatile io sto a guardare perché non avevo idea di quanto sarebbe costata la telefonata in venezuela il credito era di 16 dollari e 20 centesimi parla 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 un minuto due minuti tre minuti il credito è sempre di 16 dollari e 20 passano 5 minuti e il credito è sempre 16 dollari e 20 devo aver fatto un'espressione di entusiasmo perché lei mi ha detto sì sì scusi ho finito finito vada pure avanti non mi sta costando nulla non mi costa nulla è stato meraviglioso lo so che è stata solo una chiacchierata ma che chiacchierata una meravigliosa chiacchierata mia moglie aveva bisogno di me e il signore ha messo a disposizione la sua connessione wireless per mettermi in contatto con l'australia ovviamente abbiamo pregato per la guarigione e abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare mia moglie ha lavorato fino a 12 settimane circa 12 settimane prima di settembre una ragazza che aveva l'aspetto di una persona sana abbiamo vissuto un episodio mia figlia a maia che avete conosciuto ha tanta energia e dobbiamo trovare il modo di incanalare tutta quella energia in modo sano perché il diavolo ha infinito opportunità giusto con suo fratello quando aveva 15 anni anche lui un ragazzo con tanta energia abbiamo cominciato a portarlo in aeroporto e a fargli pilotare dei piccoli aerei e oggi un meccanico aeronautico a lei invece abbiamo promesso un cavallo ma con la malattia abbiamo dovuto affrontare delle spese per comprare questo e quello e provare una cura e l'altra dunque mia figlia ha cominciato a farci vedere delle foto di cavalli però i cavalli sapete sono costosi ho deciso allora di inserire il cavallo di mia figlia nel diario delle preghiere con la data abbiamo pregato per il cavallo di mia figlia e abbiamo messo questo tema nelle mani del signore circa sei settimane dopo ci chiama uno e ci dice abbiamo una cavalla ad allevamento che deve essere messa a riposo è ben addestrata circa 19 anni ha bisogno di essere accudita e di un buon periodo di riposo la cavalla si trova circa 5 ore di viaggio da qui ma non preoccupatevi ve la porteremo noi lei pensa che sua figlia sia in grado di prendersene cura ad ogni modo non riusciremo a consegnarvela prima di cinque settimane esattamente il giorno dopo aver ricevuto quella telefonata annotai la risposta alla preghiera sul mio diario avevo il cavallo sì sulla base della parola di quell'uomo giusto ma il cavallo arrivò solo cinque settimane più tardi quando ho annotato la risposta alla preghiera sul mio diario ho sentito la voce di dio che mi diceva questo è il modo in cui voglio che tu viva secondo la mia parola se riesci a credere alla parola di un uomo che ti dice che ti consegnerà un cavallo cinque settimane dopo e scrivi sul tuo diario preghiera esaudita sappi che questo è il modo in cui voglio che il mio popolo viva per ogni parola che procede dalla bocca di dio non in base alla realtà delle circostanze ero entusiasta mi sono alzato dal soggiorno e sono andato a condividere questa scoperta con la donna cilena la più bella donna cilena dell'emisfero meridionale ma prima che potessi dirle qualcosa lei mi fa oscar smettiamo di pregare per la guarigione lui ci ha sentito adesso dobbiamo cominciare a pregare per la sua gloria e solo per la sua gloria per la sua gloria e solo per la sua gloria perché per le sue lividure riuscite a finire la frase è passato presente o futuro passato per le sue lividure siete stati guariti è un passato amici è già accaduto in prima pietro è al passato siete stati guariti in isaia è al presente ma nel nuovo testamento è già passato perché la croce si è già compiuta per le lividure siete stati guariti a volte parlo con mia moglie lascio perdere e le chiedo come sta lei mi guarda sorride e mi dice non chiedermi come sto perché mi sento stanca mi sento dolorante mi sento frustrata perché sai che sono una donna molto attiva ma ora sono sotto tono non mi chiedere come sto chiedimi come sono come sei sono stata redenta dal sangue dell'agnello sono stata guarita dalle sue lividure mia moglie è stata cresciuta in maniera piuttosto turbolenta vi incoraggio a guardare la sua testimonianza se non l'avete ancora fatto là in fondo potete trovare il video il dvd scusate e una volta mi disse sai oscar per tutta la vita ho avuto un problema con la figura paterna qualcuno di voi saprà che mia moglie ha perso la madre a causa di un cancro all'età di 30 anni sua nonna sempre per cancro a 30 anni la bisnonna ancora per cancro all'età di 30 anni quando mia moglie ha compiuto 40 anni ha esultato ehi ho avuto 10 anni in regalo mi ha detto sai per tutta la vita ho cercato mio padre e quando l'ho trovato satana mi ha voluto far credere che il mio padre celeste è come qualsiasi altro padre mi deluderà ma io oscar non permetterò che accada dio è lo stesso ieri oggi e per sempre mi ha amata mi ama e mi amerà per sempre ha voluto il meglio per me quando stavo bene e vuole il meglio per me oggi preghiamo alla sua gloria un altro giorno mi ha detto oscar al diavolo non interessa la mia salute lo sapevate che a satana non interessa la vostra salute non gli interessa la vostra casa gli interessa la vostra fede intaccherà la vostra salute per guadagnare la vostra fede di fatto amici se siete atei vi posso garantire al 100 per cento che non credete in dio perché vi è successo qualcosa ed è stato difficile conciliare un dio di amore con quello che vi è successo è facile quindi non credere in dio perché il dio che avete in mente vi ha fatto quello mia moglie quindi mi ha detto lui non vuole la mia salute lui vuole la mia fede una domenica di settembre ci siamo riconsacrati l'una all'altra dopo 22 anni mio cognato fa il pastore a sydney e ha tenuto la celebrazione via skype nella notte del 25 settembre del 2016 lei si sentiva molto debole estremamente debole non riusciva ad andare a dormire allora io leggevo la prima parte di un versetto e lei lo completava io dicevo il signore è il mio e lei finiva con pastore io non temerò eccetera abbiamo continuato per circa mezz'ora e poi ci siamo addormentati entrambi alle 6 del mattino del 26 di settembre mio figlio è entrato in camera ha dato un bacio alla mamma e le ha detto che l'amava mia moglie era tanto debole che non so nemmeno se se ne fosse resa conto mi sono messo a pregare accanto a lei lodando e ringraziando il signore perché era stato in grado di capovolgere la situazione ma noi siamo soggetti al giusto giudizio del signore ed ecco perché abbiamo fiducia in lui alle 7 del mattino accadde qualcosa qualcosa che è stato dono per noi e lo sarà per sempre alle 7 in punto mia moglie sebbene molto indebolita ad un tratto alzò il braccio e cominciò a sorridere e a guardare verso l'angolo della stanza tanto che mi girai anch'io verso quell'angolo aspettandomi di vedere un angelo o qualcosa del genere e lei sorrideva rideva e le dissi veronica gesù ti sta parlando e lei sì le ho detto non non scherzare su queste cose oscar mi sta parlando cosa sta dicendo e lei che non morirò lui è morto affinché io potessi vivere per sempre ed è rimasta così sorridente e col braccio steso verso qualcuno che io non riuscivo a vedere le ho dato un bacio in fronte le ho detto vado a farmi la doccia sono entrato in doccia ci sono rimasto per 20 minuti sono tornato in camera lei era ancora lì sorridente a guardare verso l'angolo della stanza le ho chiesto stai bene mi ha risposto con queste parole 3 2 1 via e si è addormentata in cristo il 26 di settembre solo quattro mesi fa alle 7 30 del mattino alle 8 ho mandato un messaggio ad alcune persone in spagna ad amici familiari dicendo si è addormentata in cristo alle 8 del mattino cioè a mezzanotte in spagna in quel periodo dell'anno era chiaro per me avevo già parlato al signore se mia moglie si addormente in cristo davanti a me dirò miracolo se vorrai che sia così chiederò la risurrezione voglio essere sicuro di di aver contemplato tutto chiederò la risurrezione quindi alle 9 in punto cioè all'una in spagna sono entrato di nuovo nella stanza non avevo chiamato nessuno nessuna infermiera nessuno sono entrato nella stanza ed ero pronto a chiedere nel nome di gesù veronica alzati se fosse stata la sua volontà nel momento in cui stavo per dire veronica nel nome di gesù alzati ho sentito una mano sul mio petto e un sussurro all'orecchio ok va bene va tutto bene e non ho potuto pronunciare quelle parole sono uscito dalla stanza ho chiamato i miei figli l'altro mio figlio è arrivato dall'aeroporto ci siamo inginocchiati e ho miei figli voglio che sappiate una cosa mamma qui non ha perso nessuna battaglia perché l'unica battaglia che c'era da combattere era la battaglia della fede e lei l'ha vinta alle 10 è arrivato l'infermiere per le cure palliative a proposito mia moglie aveva lavorato fino a 12 settimane prima una donna che aveva l'aspetto di una persona in salute in 12 settimane la situazione è crollata repentinamente in sole 12 settimane in 12 settimane quindi l'infermiere delle cure palliative era sempre venuto solo per controllare come stesse se sentiva dolori eccetera mia moglie un giorno gli aveva detto sembra un bravo uomo voglio pregare per lei dopo la prima visita è venuto solo tre volte l'infermiere mi ha portato in soggiorno e mi ha detto oscar voglio che sappia che faccio questo lavoro per mantenermi ma c'è qualcosa in questa casa entro nella camera di una paziente terminale ed è lei che rivolge a me parole di incoraggiamento parlo al marito perché mi sembra una messa in scena parlo al marito e mi chiedo perché sorride perché la nostra vita è riposta in cristo ecco perché sovrabbondiamo di gioia in tutta l'afflizione la seconda volta che è venuto è stata due settimane prima che lei si addormentasse la terza volta solo per certificare che fosse morta per poter rimuovere il corpo il venerdì tutto questo accadde il mercoledì il venerdì ho ricevuto una telefonata di condoglianze da un'amica in spagna lei conduce un canale su youtube lavora sui social media e cose del genere e mi ha detto oscar era mezzanotte quando abbiamo ricevuto il tuo messaggio con cui ci hai detto che veronica si era addormentata nel signore eravamo a madrid stavamo tornando a casa e avevamo due ore di strada mentre mio marito guidava io guardavo fuori dal finestrino il buio della notte e dopo circa un'ora dovevano essere le nove in australia dopo circa un'ora ho visto davanti ai miei occhi come la scena di un film non so se fosse al di fuori dell'auto o solo nella mia mente ma ho visto voi in una camera e ha descritto brevemente il letto i muri e tutto il resto e notate non era mai stata in australia stava descrivendo la mia camera mi ha descritto veronica stesa lì immobile addormentata nel signore e mi disse oscar tu eri sul bordo del letto e stavi per chiedere il miracolo della risurrezione e ho detto signore se questo sta veramente accadendo se oscar sta chiedendo la risurrezione allora mi unisco alla sua preghiera in quel momento oscar un angelo è entrato nella stanza ha messo una mano sul tuo petto si è avvicinato al tuo orecchio e ti ha sussurrato va bene oscar va tutto bene e lì ho capito che era tutto a posto te lo sto dicendo oscar nella speranza che ti sia di incoraggiamento e io dall'altra parte della cornetta che tremavo se va bene a dio va bene anche a me quel venerdì sera ho chiamato mio padre mio padre è un ateo gli ho raccontato gli ultimi eventi della vita di veronica e dall'altra parte sentivo solo silenzio gli ho chiesto sei ancora lì mio padre stava singhiozzando quell'uomo duro stava singhiozzando gli dissi non so se questo può esserti d'aiuto papà ma il tempo si sta avvicinando e questo dio vuole essere anche il tuo dio mio padre si è messo a piangere come non potete immaginare certo che è di aiuto amici voglio che sappiate che quella è stata la prima volta che ho avuto l'opportunità di trasmettere un qualsiasi commento su dio mio padre da allora ci siamo scambiati dei messaggi su whatsapp e vi posso dire che è sul punto di avere un incontro personale con il dio del cielo mio padre ha lasciato la mia famiglia molti anni fa e ha commesso tanti errori ma io voglio ritrovarlo in cielo gli ho mandato un messaggio gli ho detto papà satana ci ha rubato tutti questi anni ma dio ci sta offrendo l'eternità per ricongiungerci dopo due settimane tutto ad un tratto torna l'infermiere delle cure palliative bussa la porta lo faccio entrare e lo faccio accomodare nel soggiorno mi chiede come sto e rispondo dio è buono dio è buono sempre dio è buono quando c'è il sole dio è buono quando piove è lo stesso dio sulla montagna come lo è nella valle lo sto dicendo perché una frase fatta no lo sa perché per l'esperienza che ci ha fatto vivere il giorno del funerale è stato trasmesso da un mio amico col suo cellulare in inglese mentre io ho registrato una versione spagnolo degli ultimi istanti della vita di veronica in una settimana più di 9000 persone avevano condiviso il video via whatsapp ed altri mezzi ho cominciato a ricevere messaggi da gente che aveva dato il proprio cuore al signore persone che si sono avvicinate al signore dopo aver vissuto un cristianesimo tiepido e che ora stavano vivendo un risveglio gente che aveva avuto a che fare con la depressione perché aveva perso una persona cara ma che dopo aver visto questa testimonianza ha aperto gli occhi dicendo cosa sto facendo invece che gioire nel signore l'infermiere delle cure palliative era nel soggiorno e gli stavo raccontando alcune delle esperienze delle persone che mi stavano contattando grazie alla testimonianza di veronica e gli ho detto veronica che ha toccato la vita di molte persone quest'uomo che per molti anni aveva lavorato da infermiere somministrando cure palliative cominciò a piangere mi guarda e mi dice la testimonianza di tua moglie ha toccato la mia vita gli ho detto fratello è dio che sta parlando al tuo cuore piangendo non riusciva ad articolare bene le parole ma a un certo punto mi ha detto oscar devi capire che sono un infermiere che somministra cure palliative vivo di questo tutti i giorni ho a che fare con malati terminali firmo certificati di morte ogni settimana ma la prima volta che sono entrato in questa casa ho percepito qualcosa di diverso uno spirito c'era qualcosa qui di diverso e quando certificato la morte di veronica oscar ho notato che stava ancora sorridendo ho percepito quando l'ho vista che qualcuno stava guardando noi non lei ma guardava noi nel mio soggiorno dunque il signore ha fatto vedere i chiodi della croce per presentare gesù e per portare quest'uomo alla croce di cristo quando se n'è andato due ore e mezza dopo quando arrivato aveva detto che sarebbe rimasto solo pochi minuti due ore e mezza dopo è salito in macchina ma non riusciva a partire è rimasto in auto a piangere per tre minuti d'orologio prima di mettere in moto ed andarsene molto lentamente quello era l'infermiere delle cure palliative amici voglio farvi una domanda pensate che mi si è inventato tutto pensate che questa gioia sia solo una messa in scena voglio che sappiate una cosa veronica è stata la mia unica e sola donna il periodo più lungo che abbiamo vissuto distanti è stato forse nel 2012 quando sono venuto in nuova zelanda per due settimane per 22 anni non ci siamo mai separati ma dio se dio è reale deve superare il test della sofferenza umana e una volta passato dall'altra parte rimanere integro questo è il mio dio è venuta gente a casa mia dicendomi oscar siamo venuti per incoraggiare te e invece sei tu che incoraggi noi come può essere ho risposto perché non ci contristiamo come si contristano coloro che non hanno fede fratelli quel versetto è reale noi non capiamo cosa vuol dire memorizzazione biblica quando leggiamo ama i tuoi nemici e memorizziamo quel versetto ma odiamo ancora il nostro nemico vuol dire che avete memorizzato il versetto no quando leggiamo non ti lascerò e non ti abbandonerò e poi andiamo dai nostri amici e diciamo mi sento solo vuol dire che abbiamo memorizzato quel versetto no per niente cos'è la memorizzazione biblica è la parola di dio che è entrata nella vostra mente al punto che quando arriva il terremoto quando arriva un tornado quando arrivano le afflizioni non vi lasciate smuovere il salmo 118 contiene un versetto molto interessante verso la fine del capitolo a memoria deve essere il versetto 24 legate la vittima del sacrificio ai corni dell'altare se non è il versetto 24 il capitolo 118 il versetto deve essere verso la fine del capitolo legate la vittima del sacrificio ai corni dell'altare cosa vuol dire bisogna assicurare il sacrificio bisogna prendere la vittima e assicurarla i corni dell'altare così se anche arrivasse un vento fortissimo il sacrificio non si muoverebbe se ci fosse un violento terremoto il sacrificio non si muoverebbe la croce non si muoverebbe la croce non si muove nel terremoto nel fuoco e qualsiasi altra cosa dovesse abbattersi sulla vostra strada amici sono convinto che il tempo è vicino molto vicino quanto vicino non lo so spero molto molto vicino e spero che la gente smetta di fare previsioni perché secondo me creano solo confusione perché dio non può onorare una data e gli toccherebbe cambiarla mettiamo che dio avesse pianificato di tornare in un determinato giorno e qualcuno azzecca al giorno gli tocca cambiarla questo vuol dire che dovrò aspettare più tempo prima di poter riabbracciare mia moglie perciò smettiamola di dare delle date perché io sono pronto oggi amici se oggi qualcuno entrasse da quella porta con una mitragliatrice mi inchiodasse al muro e puntandomi un'arma addosso mi dicesse oscar se non rinneghi cristo ti uccido sapete cosa gli risponderei me lo prometti me lo prometti davvero perché per noi vivere è cristo e morire è guadagno mi sorprende sentire cristiani avere paura delle afflizioni siete matti le afflizioni sono la cosa migliore che possono accadere a un cristiano perché bisogna liberarsi di qualsiasi cosa che butti a terra e ci fanno anche guardare in alto perché la redenzione si sta avvicinando sono la cosa migliore che ci possa accadere ho ancora otto minuti e devo dirvi qualcosa di davvero entusiasmante siete pronti quanti terremoti si sono verificati quando gesù è morto voglio dire in quel frangente fra la morte la risurrezione quanti terremoti due terremoti uno al venerdì e il secondo quando le donne si sono recate al sepolcro quello è stato il secondo terremoto dunque il giovedì c'è stata la pasqua che dà inizio alla settimana del pane azimo in quella settimana ci sono due giorni che sono chiamati i giorni delle primizie in cui in questo caso cadde di venerdì un gruppo di persone incaricate dal sacerdote vanno per i campi a contrassegnare i raccolti che sono già maturi sapete no che una pianta di pomodori non matura tutte insieme qualche pomodoro maturerà prima e quelle sono le primizie quindi vanno a contrassegnare i raccolti di venerdì per raccoglierli e presentarli al signore come primizie la domenica in questo caso quindi il venerdì poi riposano il sabato e la domenica vanno raccolgono e presentano le primizie al signore il venerdì gesù è sulla croce e si verifica il primo terremoto le tombe sono state contrassegnate la domenica il secondo terremoto i morti sono resuscitati con Cristo e Cristo ha presentato le primizie nel santuario celeste quando si legge il libro dell'apocalisse ci sono cinque terremoti distinti ma a me interessano gli ultimi due c'è un potente terremoto e poi c'è il più forte terremoto di sempre ci sono questi terremoti e tutti gridano corrono in cerca di rifugio e poi vedete Oscar che sorride penserete che vi stia prendendo in giro le tombe sono state contrassegnate e se non sarò troppo lontano dal cimitero prenderò la mia bicicletta perché non ci sarà più gasolio benzina in quel giorno e percorrerò la distanza dalla mia casa di campagna al cimitero e mentre la gente scapperà via mi chiederanno dove stai andando sei pazzo e dirò ehi sta arrivando il secondo terremoto un secondo terremoto sì anche più forte di questo e cosa stai facendo sto andando al cimitero perché perché è lì che colpirà il terremoto più forte il terremoto più forte amici la resurrezione di tutti i redenti di tutte le epoche ho chiesto al signore signore e se sarò su una montagna e non avrò modo di raggiungere il cimitero so che saremo presi tutti insieme e nel guardare te cercherò anche Veronica ma se ci fosse la possibilità non la sto chiedendo sto solo dicendo che se ci fosse la possibilità di essere nelle vicinanze del cimitero io mi dirigerei al cimitero col miglior sorriso che la terra tremi le tombe saranno state aperte qual è dunque lo scenario dei malvagi o distruzione che occhiali indosseranno qual è lo scenario dei redenti o il signore sta tornando che occhiali state indossando che tipo di dio state guardando cosa ha fatto questo mondo alla vostra vista siete ancora daltonici perché il signore vede a colori e per assicurarsi che anche noi vediamo a colori al suo ritorno tornerà con un arcobaleno spero che il signore in questo tempo di tenebre vi dia gli occhiali adatti per vedere di notte amici voglio che sappiate una cosa il signore ha dato a me e a mia moglie la promessa dei nostri figli per questa promessa qualsiasi cosa accada ai nostri figli per lui andrà bene voglio dire può mettere alla prova qualsiasi cosa ma se i nostri figli saranno salvi gloria a dio se quello non accade il cielo sarà sempre il cielo e dio sarà sempre dio è chiaro questo noi abbiamo quindi la promessa della sua salvezza tenendo questo in mente la cosa più preziosa che ho a parte i miei figli e mia moglie è la cosa migliore che mi sia mai capitata ho incontrato il signore grazie a mia moglie il primo frutto evangelistico di mia moglie sono stato io e la mia salvezza mi potete spiegare nella gioia in cui sono immerso cosa mai mi potrà fare il maligno cosa mi può portare via niente niente sapete che satana trema quando non può fare nulla ai cristiani perché il vero cristiano sa che qualunque cosa incontri sulla propria strada è un'opportunità per glorificare dio per ringraziarlo e per allegrarsi non può fare nulla amici e questa è un'esperienza più che vittoriosa concentrarsi su di lui avere fiducia in lui non credere in dio ma credere a dio che è diverso non vuole che crediamo in lui è stanco della gente che crede in lui anche i demoni credono in lui vuole che voi crediate a lui non vi lascerà mai non vi dimenticherà mai lui è lo stesso ieri oggi e per sempre che i venti si scatenino lode al signore spero che questo messaggio abbia smosso la vostra esperienza non ci sono afflizioni più grandi o più piccole della mia ognuno ha le sue ci sono tentazioni cui voi siete sottoposti che per me non sono nulla ma dio è fedele e non permetterà che nulla si abbatta su di voi senza darvi anche una via di uscita riuscirete a scamparla no riuscirete a sopportarla spero amici stavo dicendo ad ag che normalmente i miei seminari vanno crescendo e crescendo seguendo un certo climax ma questa volta ho detto comincerò con qualcosa di forte e rimarrò a quel livello vorrei pregare per i miei colleghi affinché i vari messaggi trasmessi nel loro insieme siano complementari come pezzi di un puzzle come una fune che viene rinforzata e che voi come pure le persone che seguono da casa possiate lasciare questo posto con la benedizione di credere di essere invincibili in cristo gesù perché lui è vostro padre e sa cosa è meglio per voi vi invito a chinare il capo con me in preghiera caro padre celeste ti vogliamo ringraziare signore perché sei tanto buono e dovremmo passare più tempo a ringraziarti ti ringraziamo per la tua bontà perché tu sei un punto fermo che non cambia ti ringraziamo perché non cambi nonostante le circostanze e ti ringraziamo per tutte le tue promesse che sono vere signore avremo questo seminario e questa è stata solo l'introduzione avremo questo seminario affinché tu possa rivelarti e mostrare tutti i diversi colori del tuo carattere di un dio che resiste alla sofferenza degli uomini un carattere che supera il test e che lascia l'altra parte vittoriosa benedici coloro che hanno ascoltato questo messaggio fa che il tuo spirito possa parlare al loro cuore che loro possano sentirlo te lo chiedo nel nome prezioso di gesù amén grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti